vi ricordate in men in black quando la piatola è arrivata sulla terra perché stava cercando la galassia e la galassia era al collo di un gatto ok in quel caso era il collo di un gatto in questo caso è fra le mie dita salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi parlo di un prodotto che mi ha entusiasmato in maniera esagerata anzi direi inaspettata e il prodotto di cui stiamo parlando oggi è lui il proiettore Pococo un proiettore che non proietta film non proietta video non proietta foto come siamo abituati con i normali proiettori ma lui ci proietta ragazzi delle emozioni incredibili e ce le proietta sopra di noi adesso andiamo a vedere velocemente cosa c'è nella confezione poi lo analizziamo dal punto di vista tecnico ma poi ragazzi lo proviamo cercherò anche se non è facilissimo diciamo trasmettervi quello che si vede con lui ma cercherò comunque di trasmettervelo nel miglior modo possibile quindi all'interno della confezione troviamo il manuale di istruzioni è semplicissimo in lingua inglese troviamo dei cartoncini di garanzia di ringraziamento sempre della Pococo dei cartoncini di garanzia e di ringraziamento e poi troviamo subito sopra ragazzi queste due cartucce o meglio queste due custodie dove all'interno abbiamo dei piccoli dischetti che creeranno la magia che andremo a vedere in questo caso nella mia confezione che mi ha inviato Pococo che ringrazio appunto di avermi inviato perché è veramente un prodotto che mi ha emozionato allora abbiamo le stelle da questa parte quindi quello che andremo a vedere sarà un cielo stellato ma ragazzi in una maniera che vi lascerà a bocca aperta se riuscirò a trasmettervelo attraverso appunto il video che andremo a vedere mentre in questa vedremo qualcos'altro che c'è nello spazio allora ci tengo a precisare una cosa in questa versione io avevo queste due schede già incluse in confezione poi non so se nelle versioni che si acquistano qua in Italia vengono date altre immagini in dotazione queste sono quelle che ho trovato io nella mia confezione perché poi ovviamente è possibile andare a acquistare separatamente dei pacchetti ragazzi per quanto riguarda appunto quello che vogliamo vedere ma di questo ne parleremo tra poco continuiamo a vedere cosa c'è nella confezione e troviamo subito lui il nostro proiettore sì perché ragazzi questo è tutto quello che troviamo all'interno della confezione il proiettore ragazzi è piccolo leggero quindi è trasportabile e soprattutto è utilizzabile anche senza un'alimentazione sì perché qua abbiamo ovviamente la possibilità con una presa type c usb di collegarlo a qualsiasi alimentatore per pc per telefono e andare a ricaricarlo perché all'interno ovviamente lui ha una batteria a litio da 2000 mini ampere quindi lo suo utilizzo che è di circa sei ore quando la batteria è tutta carica o altrimenti collegato all'alimentazione ovviamente l'utilizzo è infinito però è talmente trasportabile talmente pratico da portare che utilizzarlo con la batteria è sicuramente tanta roba qua abbiamo solo tre tasti di utilizzo abbiamo il tasto per l'accensione il tasto che farà girare a 360 gradi l'immagine che andremo a vedere sarà un movimento molto lento appunto perché l'emozione e il rilassamento che ci danno le immagini che riesce a trasmettere questo proiettore ovviamente devono essere gustati in maniera lenta e non fastidiosa e poi abbiamo un terzo tasto che è un timer un timer che permette a questo dispositivo di spegnersi dopo un determinato tempo di utilizzo quindi se dovessimo metterlo in una camera per bambini o in un ambiente in cui vogliamo un determinato tempo di utilizzo quindi magari supponiamo di avere la camera dei nostri figli che prima di addormentarsi lo accendono andremo ad impostare un timer con questo tasto che potrà essere ovviamente andrò a cliccare una due tre volte avremo la possibilità di dargli un tempo di 15 minuti 30 minuti o un'ora prima dello spegnimento o altrimenti se non andiamo ad attivare questo tasto lui sarà acceso in maniera continua è interessante sicuramente anche la risoluzione delle immagini che andremo a vedere perché lui ha una risoluzione in alta definizione che arriva fino a 10 milioni di megapixel e in più la dimensione dell'immagine che andremo a vedere ovviamente più lui è lontano dalla parete dal soffitto dove dovrà proiettare l'immagine più la dimensione che andremo a vedere dell'immagine sarà grande e se dovessimo metterlo ad una distanza di due metri e mezzo dal soffitto avremo l'immagine di 12 metri quadrati ed è questo che è affascinante perché riesce a comprire un'area veramente importante e quindi capite che l'emozione è data da un'immagine gigantesca che ci andrà ad avvolgere o che comunque andrà di fronte a noi a riempire il nostro sguardo ed è davvero qualcosa di unico e qua sopra abbiamo una ghiera regolabile per la messa a fuoco perché cambierà la messa a fuoco in base alla distanza che abbiamo tra la lente del proiettore e il soffitto dove verrà appunto proiettato il tutto quindi cambiando le distanze e le altezze dovremo mettere a fuoco in base appunto all'ambiente dove andremo a proiettarlo e poi quello che andremo a proiettare è possibile andare a inclinarlo di 45 gradi o da un lato o dall'altro appunto in base a dove vogliamo andare a proiettare e poi qua dietro abbiamo questo cassettino che è dove andremo ad inserire il piccolo dischetto che vi ho fatto vedere all'inizio e poi qua dietro in questo piccolo cassettino c'è l'alloggio per il piccolo dischetto che vi ho fatto vedere all'inizio quello che conteneva la galassia che andrà inserito ed appoggiato qua dentro per appoggiarlo è semplicissimo basterà a seguire i due lati piatti del cerchio che dove il piccolo dischetto andrà ad inserirsi in maniera perfetta quindi vado a prendere il dischetto che avevo in mano all'inizio che vi arrivano in queste custodie vedete molto pratiche e bellissime anche da collezionare perché ce ne sono ragazzi tantissime tantissime poi tra poco ve le faccio vedere quindi vado a prendere il piccolo dischettino e vado ad inserirlo qua vedete che lui entra in maniera perfetta perché segue i due lati piatti del cerchio quindi facendoli combaciare entra in maniera precisa poi basterà andare ad inserirlo nel nostro proiettore in questo modo e andare ad accenderlo con questo tasto ma prima di andare a provarlo voglio farvi vedere appunto cosa è possibile aggiungere a questo proiettore la cupococo mi ha mandato appunto questi altri pacchetti disponibili o meglio questi altri sette disponibili di dischetti in questo caso ragazzi guardate quanti sono e sono magnifiche ragazzi io non sono ancora riuscito a vederle tutte perché sono tantissime e sono stupende tutte comunque tutti i link li trovate qua sotto in descrizione compresi coupon sconto se dovessi ottenerli dalla pococo ve ne faccio vedere qualcun altro qua abbiamo tutti i pianeti guardate abbiamo urano saturno qua abbiamo la terra e così via cioè li abbiamo tutti e sono pazzeschi spero davvero di riuscire a trasmettervi dopo con la videocamera quello che vedo e qua un altro set ancora dove abbiamo ancora degli altri ve li faccio vedere velocemente cioè assurdo assurdo sono cose che sembrano stupidate ma quando le vedete proiettate sono di un'emozione incredibile allora il suo prezzo attuale su amazon è di circa 90 euro poi dipende del coupon sconto che amazon mi fa applicare l'acquisto poi dipende del coupon sconto che amazon mi fa applicare l'acquisto come sapete adesso amazon ha questa cosa di mettere degli sconti all'acquisto poi comunque qua sotto in descrizione troverete tutti i link e i coupon sconto quindi detto tutto questo però adesso è arrivato il momento di emozionarvi con il proiettore della pococo andiamo ci siamo ho posizionato tutto e sono pronto a trasportarvi in un'emozione incredibile e o meglio spero di riuscire a farlo perché comunque sto riproducendo un qualcosa che è bello vedere direttamente quindi siamo nella mia camera da letto che dove secondo me avevo più spazio per riuscire a trasmettervi tutto questo c'è poca luce quindi mi vedrete un po scuro però non è questo che è importante in questo video ma vedere quello che è in grado di darci lui il proiettore pococo che ho posizionato qui per proiettare lì e ragazzi preparatevi e preparatevi qualcosa di bellissimo mentre in questa posizione ho preparato il mio iphone per registrare quello che dovete vedere voi quindi in questo momento ho all'interno il primo dischetto che vi ho fatto vedere all'inizio ma dopo ne proveremo qualcun altro appunto per farvi capire cosa anche c'è di differenza tra un dischetto e l'altro quando andiamo ad inserirlo quindi ragazzi pronti sto per spegnere la luce preparatevi 3 2 1 vai e voilà ragazzi è emozionantissimo in questo momento sentite probabilmente solo la mia voce non mi vedete più perché ho spento tutte le luci ed è fantastico ricordatevi di mettere a fuoco con la ghiera che c'è sopra al proiettore perché comunque come vi ho detto la distanza tra la lente e il soffitto in cui andrete a proiettare non è uguale per tutti quindi dovete andare a regolare e vedete quando tutte le stelle anche quelle più piccoli puntini più piccoli sono veramente messi a fuoco in maniera precisa avrete raggiunto l'obiettivo massimo guardate che spettacolo adesso vado a fare partire il movimento perché come vi ho detto lui è in grado di ruotare a 360 gradi l'immagine ma in maniera molto lenta adesso l'ho fatta partire e dovreste vederlo girare ma gira lentissimo appunto perché crea questo movimento di relax questo momento di piacere cioè è emozionantissimo però spero che dal telefono riusciate a vedere comunque l'immagine che ruota a 360 gradi è spettacolare io è un po che lo uso qua in camera e davvero non riesco ancora abituarmi quanto è fantastico se lo mettete in una camera come vi ho detto per dei bambini per dei ragazzini è davvero un'emozione per loro fantastica poi puntate il timer dopo 15 minuti 30 minuti o 60 minuti lui si andrà a spegnere da solo come vi ho detto una batteria inclusa quindi adesso sta funzionando con la sua batteria che quando è totalmente carica dura circa 6 ore di utilizzo adesso vado ad accendere la luce e cambiamo quello che è il dischetto appunto per farvi vedere che differenza c'è tra un dischetto e l'altro nel andare a riprodurre l'immagine appunto che abbiamo su quel dischetto adesso allora acceso la luce vado a sostituirlo con magari un pianeta proviamo a mettere la terra vado a togliere il dischetto che abbiamo appena visto lo facciamo cadere fuori in maniera delicata lo mettiamo nella sua custodia comunque tutte queste custodie sono bellissime anche proprio a livello di collezione sono fantastiche come sono state fatte e andiamo a prendere la terra che dovrebbe essere questo sì ecco la terra vado a inserirlo facendo combaciare appunto le sbancature che lo vanno a fare inserire in maniera perfetta nella sua sede andiamo a mettere il cassettino ok in questo momento si vede poco perché c'è tanta luce ma preparatevi anche a questa atmosfera vedere la terra sul soffitto della vostra camera 3 2 1 via e voilà ragazzi è magia è magia si vede che è una cosa spettacolare spero che dal telefono vi sia arrivato quello che realmente sto vedendo io qua in prima persona strepitoso emozionante di brutto bellissimo bellissimo allora riaccendiamo le luci e ne proviamo un altro ne proviamo l'ultimo giusto perché se no stiamo qua fino a domani io starei anche qua fino a domani a provarli tutti perché è fighissimo è quindi abbiamo visto una galassia abbiamo visto un pianeta la terra però abbiamo tutti i pianeti in questo pacchetto pianeti come vi ho detto i pacchetti sono acquistabili separatamente allora troviamo questa vediamo com'è credo che di non averla ancora provata quindi la provo anch'io per la prima volta con voi perché sono talmente tante che non le ho provate tutte andiamo ad inserirla ok facciamo partire subito il movimento di rotazione 3 2 1 via e voilà bellissimo bellissimo anche questa è strepitosa anche questa bellissimo mi aspetto qua sotto nei commenti e se avete provato delle emozioni nel vedere quello che sto vedendo io vi aspetto qua sotto nei commenti allora accendiamo la luce proviamo magari l'ultimo dischetto anche se era l'ultimo quello che avevo detto prima ma giusto perché mi è venuto in mente che nella confezione che io ho trovato c'era anche quello delle stelle quindi proviamo quello e poi ci salutiamo allora cambiamo questo dischetto ok inserito facciamo ruotare anche le stelle ci siamo pronti e immergiamoci in un cielo stellato 3 2 1 e voilà emozionante emozionante completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso ma bellissimo anche lui stupendo stupendo uno meglio dell'altro pazzesco davvero davvero stupendi quindi ragazzi spero di essere riuscito a trasmettervi cosa è in grado di fare lui il proiettore della pococo questo galaxy proiettore che è in grado di darci secondo me un'esperienza allucinante come vi ho detto nella mia versione arrivato con due schedine però mi sembra che nella versione su amazon e vi arriva con tre e poi è possibile acquistare come abbiamo detto tutti questi pacchetti separatamente aggiungendoli successivamente perché comunque è qualcosa di allucinante loro dicono che utilizzabile anche in auto metterlo in auto crea un'atmosfera fantastica bisognerebbe provarlo io non ho provato o anche quando comunque si fa una festa o quando magari si vuole ricreare un'atmosfera particolare lui è tanta tanta roba quindi ragazzi spero che questo mio video in cui ho portato la mia prova e la mia recensione di questo proiettore della pococo galaxy vi sia piaciuto che l'abbiate trovato utile ed interessante se è così ragazzi lasciatevi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità ante prime spoiler anche di lui qualche spoilerino era arrivato quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo instagram sempre si va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove ho posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia anche di lui li troverete nel mio canale telegram offerte oltre che qua sotto in descrizioni coupon sconto ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdi neanche un video un volo una recensione come questa un testo un tutorial una novità ciao e al prossimo video